Di partecipare anche con una propria lista, con l'Ascoli e il sostegno di Marco Ciaravanti. Quello di oggi è un incontro importante perché andiamo a fare una confederazione tra una lista civica, che è quella per Ascoli, con noi moderati. Ritengo che quest'unione di persone ha come obiettivo mettere il cittadino al primo posto e di riavvicinare tutte quelle persone che si sono comunque allontanate dalla politica. Gli strumenti per fare ciò li abbiamo e sono i valori del centro-destra, i valori liberali e cristiani che ci permettono di fare proposte concrete e serie. Grazie a tutti! Grazie!